Salve ragazzi, come state? Io sono Brilliant e oggi è il primo gennaio e so già quello che state pensando che avete tanti buoni propositi per il nuovo mondo. Sto immaginando che se mi segui su questo canale per inglese uno dei tuoi buoni propositi è migliorare il tuo inglese. Detto ciò, io ho scritto un esame e ho tanta esperienza nel scrivere esami perché ne ho scritti tantissimi ma ragazzi vi posso dire con tutta la verità del cuore che l'esame che ho scritto adesso è l'esame migliore che io abbia mai scritto e in più di solito do questi esami soltanto ai miei brilli. Un brillo è un mio studente personale è un nuovo soprannome nickname per i miei studenti. Anche se non sei un brillo, ovvero le persone che mi sostengono sulla mia pagina page Anche se non sei un brillo adesso, puoi fare questo esame perché voglio farvi vedere com'è Se ti sei mai voluto valutare il tuo livello d'inglese, se ti sei mai chiesto tipo ma come sono? Sono bravo? Dove è cielo? Dove sbaglio spesso? Tutto quello potresti avere una risposta a tutto quello Quindi adesso potete andare tutti a fare questo esame, c'è il link sotto nella descrizione Sto anche sperando da una parte che non tutti lo facciano perché devo correggere tutto io da solo e ci metterò tanto tempo per ogni esame perché scriverò feedback dove eccelli come ho detto, dove sbagli e devo dare tutte le risposte giuste a tutte le domande sbagliate Quindi se non lo vuoi fare, va bene pure Allora ragazzi, poi magari tra due o tre settimane dopo tutti hanno fatto l'esame farò un video ripasso su tutto l'esame per spiegare le risposte giuste così potete anche imparare In più, il 7 gennaio c'è un LVL che io chiamo Live Video Lesson, Live Video Lezione d'inglese in cui tutti i miei brilli, ma in questo caso il primo è disponibile a tutti potete farmi qualsiasi domanda dell'inglese e sarà una lezione di un'ora aperta al pubblico per qualsiasi persona che vuole farmi una domanda sull'inglese quindi se hai mai voluto chiedermi una domanda lo puoi fare il 7 gennaio su questo LVL Andando avanti nel futuro, ogni lunedì sera faremo questi LVL per i miei brilli Se vuoi essere un brillo, tutte le informazioni sono disponibili sulla mia pagina Patreon e avrai questi esami mensili e anche questi LVL video lezioni ogni settimana e mi farebbe piacere avere tanti studenti nuovi quindi buon anno, buoni propositi per quest'anno e godetevi questo esame in bocca al lupo perché vi servirà perché questo esame non è facilissimo ma se sei un principiante puoi imparare delle cose da questo esame comunque Allora ragazzi, per il resto non devo dire niente di più è stato un piacere, ci vediamo, peace! Grazie